Ciao, oggi sono a Scodovacca, una frazione di Cervignano, dista due minuti di macchina, non di più, e ti voglio far vedere questo appartamento tutto ristrutturato, con tre camere, soggiorno, cucina e... basta, dai, andiamo a vederlo, vieni! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!